Grazie a tutti. Ma non solo ogni tanto, sempre a farlo spesso, ma comunque con una squadra così è sempre difficile. Quattro partite di campionato o comunque tu le hai viste da fuori? Quattro vittorie importanti per cominciare sia a macinare punti sia soprattutto a trovare in tese, gioco. Un tasto che l'Adostin Stoiceff immagino in allenamento sia insistendo molto. Immagino che Stoiceff in allenamento sia insistendo molto sul fatto di trovarvi tra di voi. Assolutamente sì, che è una cosa assolutamente normale. Adesso le prime partite sono sempre state le partite per prendere il ritmo di tutte le squadre. Io sono contento che oggi abbiamo giocato bene, abbiamo trovato il ritmo in tutte le fondamenti e contento proprio del nostro tipo di gioco, di squadra che ho mai stato sempre. Oggi è una partita a fine di un set solo, i primi due parziali più per demerichi di Monza proprio non c'è stata partita. Ma credo che non abbiamo messo tanto pressione proprio dall'inizio e questo è fatto di posizioni dall'altra parte direi. Abbiamo giocato bene, a parte i terzi set dove loro si sono ripresi e li abbiamo lasciati stare appunto a punto di fronte. In questo momento della stagione in quale state cercando il vostro gioco, la vostra identità, quanto è importante affrontare adesso due squadre comunque diverse da Monta come Macerata e Modena e soprattutto il Felix Schaffen in Champions League? Sono squadre di un alto tipo di livello. Io direi che è importante perché comunque sono squadre di alto livello, quindi una prova del genere è sempre buona. Io credo che noi siamo pronti da gioccare e vediamo che il risultato sarà. Grazie a tutti.